Buongiorno, nuovo appuntamento con Notizie d'Abruzzo con l'assessore Silvio Paolucci, assessore alla sanità della regione Abruzzo. Partiamo da un tema importante per i cittadini, il potenziamento della rete dei 118 e quindi delle autoambulanze dopo un accordo fatto tra Regione, Croce Rossa e Asla Abruzzesi. Cosa prevede questo accordo? Ma intanto va sottolineato che in questi tre anni di legislatura e di governo regionale il potenziamento della rete di emergenza urgenza è a tutti gli effetti avvenuto con un grande sforzo e un grande lavoro da parte della Regione e delle aziende sanitarie. Nel caso di specie rafforziamo ulteriormente la rete perché abbiamo siglato l'accordo per l'inserimento di 23 figure professionali all'interno del servizio di rete di emergenza urgenza della Regione Abruzzo che erano in capo all'organizzazione della Croce Rossa. È un ulteriore tassello che si lega ai tanti altri obiettivi già raggiunti in questi tre anni. Bene, ci saranno anche nuove assunzioni? Sono 23 nuove assunzioni e a ricordare anche quello che abbiamo fatto nei mesi scorsi e negli anni scorsi abbiamo messo in campo nuove postazioni di 118 in particolar modo per le aree interne, abbiamo assunto medici, alcune sono diventate già medicalizzate, alcuni di questi traguardi davvero erano storici, si aspettavano da 30 anni e abbiamo ulteriormente allargata la nostra rete degli ictus con due nuove sede di strocca sul Mona e a Vasto per fare un ulteriore esempio, così come abbiamo investito di molto sull'elisoccorso perché la strumentazione di cui oggi è dotata la Regione Abruzzo è tra le migliori d'Italia. Bene, ci sarà anche un dottore adesso a bordo di ogni autombolanza? In quasi tutte le postazioni di 118 assolutamente sì e abbiamo continuato ad incrementare il numero della presenza degli operatori sanitari, in questo caso dei medici, facendo ulteriori corsi, a qualcuno ha dato già dei risultati, altri ne attiveremo così come attiveremo le mobilità per concludere la medicalizzazione delle nostre postazioni. Saranno anche potenziate invece le strutture proprio fisiche dei pronto soccorso? Anche in questo caso la previsione sia delle sede di pronto soccorso che possono assistere gli infartuati, le persone purtroppo colpite da ictus o quelle dai traumi o dai politraumi e sia quelle che invece saranno più territoriali e che eviteranno l'ingolfamento invece appunto dei codici rossi presso certe strutture. È una concezione secondo me che aiuta e davvero favorisce il percorso in urgenza e in emergenza del paziente che quindi vuole dare un contributo di qualità. Bene, per Notizia Rebruzzo ringraziamo l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Buona giornata. A voi.